C'è bisogno di coraggio, di determinazione per arrivare in alto. Questione di centimetri, di dettagli, di ripetizioni. Bisogna dare il massimo per conquistare il premio più ambito, il clown d'oro. Vivi la magia delle feste in compagnia del più grande spettacolo del mondo. Sarà uno show straordinario, non perdetelo! 44esimo Festival del Circo di Monte Carlo, il 24 e il 31 dicembre, in prima serata su Rai 3.